Arezzo, Via Redi, zona Cappuccini, dietro il nuovo tribunale. Vedete questo meraviglioso svincolo che io credevo stesse per essere inaugurato perché insomma i lavori, come voi sapete, ad Arezzo, i lavori grossi sono stati fatti per le elezioni. Ecco, io parlo di Arezzo ma un po' in tutte le città, però questo bellissimo svincolo che dovrebbe portare da Via Redi verso, tanto per intenderci, il nuovo bar del Menchetti che vede questa asfaltatura nuova, questi, ora, quelle barriere vengono, si tolgono due minuti. Allora uno dice, bene, questi lavori è giusto che il comune li faccia perché servono e poi c'è la pista ciclabile perché, anzi, la pista pedociclabile, ho detto pedociclabile perché vedete c'è una parte dedicata al pedone, col disegno del pedone e una parte di altro colore che si fa capire che ci sono due sensi per le biciclette, quindi una che va in là e una che va in qua. Ora, quella che va in qua magari, i problemi ne ha meno, la nostra domanda è, ma quella che va in là, ma dove cazzo va? Perché qui c'è un cantiere che minimo ha cinque anni a finire, cinque anni a finire. Allora tutto questo lavoro, tutto verniciato per far vedere che siccome prima delle elezioni qui era tutto chiuso, quelli intanto pensano che noi sapra. Allora io mi domando da parte delle amministrazioni, io parlo della nostra perché mi è capitata la mia, ma purtroppo succede in tante amministrazioni, perché si prendono per il culo i cittadini? Come si fa a finire, alla fruibilità? Qui c'è anche il collaudo fatto, fino a qui quando in realtà c'è una buca incolmabile, ma guardate che lavoro, questo praticamente ci potrebbe venire un bunker di Gheddafi come una piscina interrata, come una base missilistica, non si sa mica quel che ci fanno qui. E allora la mia domanda è non continuate a prenderci per il culo, tanto le elezioni ci sono tra cinque anni, voglio dire ora potete anche lasciare così, tra cinque anni se ne riparla.